Sono stati avviati da qualche giorno i lavori di ristrutturazione del campo sportivo di Talzano-Tramontone. La struttura sarà completamente riqualificata, compreso il terreno di gioco. Lo stadio di Borgata, tra l'altro, rientra tra gli impianti che verranno utilizzati per i giochi del Mediterraneo previsti per il 2026. Sul cantiere si è recato per un sopralluogo il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. C'è anche questo progetto che tra un mesetto vedrà la luce finalmente e darà vita a tante attività sociali, sportive, a beneficio dei residenti di questa zona. Siamo al campo, come sapete, di Talzano, di Tramontone, che rientrerà sicuramente nella programmazione anche dei giochi del Mediterraneo. Lo stiamo riqualificando grazie a un sistema di compensazioni con altre attività commerciali che stanno nascendo molto importanti nella zona e che daranno anche posti di lavoro ai residenti, non è un fatto trascurabile. Stiamo riqualificando anche il parco qui limitrofo che in qualche maniera darà, come dicevamo, una qualità della vita migliore a tutte le persone che abitano in questa zona.